Salve ragazzi, qui è me e mia sorella Parte 2 del video di prima Oggi vi faremo vedere un nuovo personaggio, Yoshi Ciao Yoshi e anche Luigi, non ti dimenticare di lui Lo faremo in un altro episodio Per ora, facciamo Yoshi, questo esserino Mi farà correre molto velocemente Ma molto E mi farà fare i salti millingati Già, perché io sono un genio Un genio, un genio, un genio, un genio, un genio Vattene Aiuto ragazzi, scusate, ma a volte apparirà nei miei video Oh Yoshi, stai portendo Mangia l'erba, mangia, mangia, mangia Va bene, questo esserino vi farà prolungare i salti Sì, c'è ma Yoshi, tutti lo conoscono, Yoshi Dove è dato? Aiuto Bene E come di, puoi mangiare i nemici? Tanto E vabbè E ora vi farò vedere un livello con lui Eh, siamo iniziati Ciao Yoshi Ciao Fai schifo Grazie Allora Per il livello è semplice Eh, tanto con quello di Yoshi c'è le galassie rapide Nooo E' il primo livello è facile Però facciamo un'altra roba Per i nostri amici Sì Perché le sorella dopo si arrabbia dopo vi farò vedere anche tutti i potenziamenti tipo la trottola tutte le robe tutto possiamo iniziare con la nostra isola di Yoshi no? parliamo di questo esserino oggi esserino tutti che rompi che rompe un casino ok per caso no non lo faccio la stella burlona non l'ho fatta ancora non c'ho tempo facciamo uno Yoshi in cattività proprio Yoshi te la smetti di tossire grazie non piace apposta non piace la gente quando qualcuno è bella gente ok vi faremo vedere i Yoshi ci sono vari amici perché guarda ora arriva Kamek che non gli è rovinare le sorpresine ciao Kamek uccidilo no che mago l'ha strapasso e Yoshi non so se tre vite stupido ciao io sono Yoshi la stanzito ok ho deciso di fare questo video ma non voglio pentirmi allora Yoshi può mangiarsi questi questi frutti questi frutti questi frutti o graffarsi si no i frutti anche non può graffarsi vabbè puntando il comando allo schermo vai facendo il comando via al schermo e vabbè continuiamo no che è un punto non voglio puntare vabbè ragazzi ve lo faccio vedere a accendere la nostra barretta di cioccolata vedi prendi i nemici e questi nemici cercheranno di attaccare il tuo Yoshi ma tu vado anche i suoi ed è finito e scutendo puoi muovere la mascella di Yoshi ok mascella di Yoshi vedi si ma che vanno paura schirobetti ahia ah si e se verrete colpiti Yoshi fuggerà ah anche scutendo potete prendere Yoshi se non lo sapete io faccio così ok barretta di cioccolato più di la barretta ora questa ora ora vi farò vedere delle visuali bellissime con Yoshi guardate guarda che bella visuale epico l'esplosione proprio muovere ok dov'è il boss evviva abbiamo fatto la bandiera sta zitto non ne posso più muore che sfigato che sei Yoshi guarda che odio teo sta zitta ci metti anche tu si ok si offende Yoshi è un vecchio barbuto bacato come oggi a scuola l'ho visto un barbuto un barbuto ma tu sarai un barbuto si è vista lo specchio forse un bel trucco oggi 9 marzo 2013 io ragazzi mi sono stupato di sostizio aiuto fatene fatene guardate io sono molto più intelligente addio Yoshi non ci vedremo mai più oggi 9 marzo 2013 sta zitta sabato no ti prego farò una cosa da me aiuto ma sei una sezione ritorni anche qui aia aia poche batterie e chi se ne frega Yoshi puoi non fuggire e viva saltiamo andiamo all'olimpo all'olimpo degli dei sta zitto ma sei pazzito Yoshi non hai mai preso Yoshi in tutta la tua vita è il tuo deo Yoshi allora barretta è di mattimento schegli la barretta oh oh cavolo oh yeah ok vai Yoshi vi aiuterà a volte in certe missioni con il fiorellino si aggrappati si aggrappati ma io non c'ho voglia di aggrapparmi e io sono figo proprio figo non c'ho voglia di aggrapparmi a ste robe non ho tati i rani e loro non vi faranno del mare cosa fare a me da questo Yoshi via avanti ci serve per barretta io adoro la barretta spegnirà la barretta no tanto ora ci serve io la spengo fatto battene battene e fai ginnastica eh si all'eskilo un po' di nuoto non fa male a nessuno io l'all'eskilo e mi piace per questo sta molto male ragazzi no l'eskilo impara impari però costa uccidati ok io la prima volta i fiori i fiori sono solo per vabbè i baccati con la barba ok qui servono i fiori oh no no guardate guardate il trucco il trucco del miss italia oh grazie per l'offesa complimento no il miss italia è passato ok non ce la faccio ti serve il vecchio baccato no 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 per fortuna guarda che che strombolo strombolo il lottavo nano tutti si dimenticano e vabbè fiori sono babbè però ragazzi no mi servono non mi interessa abbiamo preso fiori sono babbè ma ragazzi uh ora qui per principanti di yoshi sarà difficile ma io ormai sono esperto diciamo tranne questa barra oggi non funziona ma il telecomando è scarico e non riesco a fare no è la barra lori prenditela con la barra aiuto no oh non ci credo epic epic aiuto epic sant'ambronio non so chi è sant'antonio sant'antonio spesa chi è antonio battene via no è un po' difficile per il principiante non sono un principiante che volevo fare volevo fare un po' di spesa volevo far ridere un po' ok non è io sono molto operato in questo livello eh io è vero mi stai facendo cadere ma che cosa sto facendo io niente telecomandino funziona piccolino se l'ha tipo cotto nello spazzaluttolino magari ma sono un genio io sono il migliore evviva abbiamo vinto evviva abbiamo vinto abbiamo vinto manetto vattene calma mia viva ok ragazzi ciccione ciccione baccato prendi luigi dai mi piace luigi è lo vivo luigi ragazzi ecco il dado della fortuna Yoshi ci sarà nelle prossime episodi non ci prego un app vuol dire sì no evviva evviva sono gli altri episodi sono gli altri episodi ora tu muori tu muori io muoro col te io muoro basta vattene vattene la mia vita Yoshi vedete allora questi sono i potenziamenti il fongoraccia il fongobu scusate il fongobu 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 che non ha più batterie vabbè il fongobu poi in questo spazio giù qui ci sarebbe il fiore fuoco ma ancora non l'ho sbloccato non c'ho avuto tempo poi qui e qui c'è il fiore e il fungo apre e qui c'è il fongobu bene ragazzi abbiamo finito con questo video ciao iscrivetevi ecco lo schermo ecco lo schermo ecco lo schermo vabbè tente il video è finito qui iscrivetevi commentate evviva evviva la banana